Nel corso dei mirati servizi predisposti nella giurisdizione di competenza, i carabinieri della stazione di Ponte Canavese hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un intero nucleo familiare, tutti residenti a Ponte Canavese, composto dalla madre di 53 anni e dai due figli di 24 e 22 anni, tutti disoccupati. I militari della stazione di Ponte hanno sottoposto a perquisizione domiciliare una piccola abitazione indipendente, trovando al suo interno una vera e propria coltivazione di marijuana, con filari artigianamente predisposti in tutte le camere, dove la sostanza veniva adagiata per agevolare la fase di esticazione, sequestrando complessivamente oltre 5 kg di superfacente, ormai pronto per la raccolta e la successiva immissione nella locale piazza, unitamente a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Grazie